Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora tutta una serie di cose da dire, la prima, scaricate l'app di numero 10 che trovate in descrizione su questo video, scaricatela mi raccomando dal link per concorrere all'estrazione di ricchi premi e cotillon tra cui le maglie dell'Inter e poi più avanti vedremo se riusciremo a farvi avere anche i biglietti ma cominciate ad usare l'app totalmente gratuita scaricandola dal link in descrizione, questa è la prima informazione, la seconda fatemi ringraziare gli amici di Lecoq Sportive che mi hanno omaggiato di questa bellissima t-shirt celebrativa dell'Italia campione del mondo nel 1982, vedete che c'è un 82 stampato qui, c'è anche molto grosso alle mie spalle on the back, provo a girarmi così magari lo vedete, è insomma una maglia molto carina, Lecoq Sportive è uno dei miei sponsor tecnici preferiti e quindi li ringrazio di avermi omaggiato di questa t-shirt celebrativa di quella squadra famosa Zov Gentile Cabrini, Uriali Collovati Scirea, Conti Tardelli Rossi e Antonioni Graziani, una fila strocca che ci ha reso campioni del mondo, per me, per quelli della mia generazione, quello è stato veramente il mondiale, molto più insomma di quello del 2006 il mondiale da ricordare, Lecoq Sportive tra l'altro era anche sponsor dell'Inter, faceva delle maglie bellissime, non propriamente come quella che Nike ha presentato, che non ho capito se sarà la seconda o la terza o sarà una delle maglie di questa stagione, quella con il mondo stilizzato però in verde acqua, diciamo che non è proprio la mia preferita, io se potessi, ripeto, al di là del contratto rinnovato con Nike, tornerai ad affidarmi alle Coq Sportive perché faceva delle maglie bellissime e chi se le ricorda negli anni 90, in quel periodo lì, tra Ambro, Mac, ci fu Lecoq Sportive che faceva delle maglie dell'Inter, bellissime altro ringraziamento che devo fare ai followers è quello di aver partecipato all'ultima live chat, siete stati tantissimi, diverse centinaia, insomma dato il periodo visto che siamo in agosto e quindi vi ringrazio, riprenderemo a fare le nostre live chat, adesso arrivo all'argomento, siamo alla vigilia di via Real Inter che è l'ultimo test prima dell'esorio in campionato il 13 agosto a Lecce e quindi capiremo probabilmente la formazione titolare, capiremo comunque gran parte della formazione titolare, sarò sugli schermi di Tele Lombardia per chi mi segue in tv di Top Calcio 24, per farvi la cronaca di questa partita, ho tanta voglia di tornare a commentare l'Inter e ho tante buone sensazioni all'inizio di questa stagione al di là dei problemi, problemi di mercato naturalmente, abbiamo parlato anche in live chat della possibilità del difensore in arrivo a fine mercato Love Coast qualcuno si preoccupa per acerbi, nessuno vuole acerbi ma fatemi fare il gioco di parole, magari ce ne sono anche di più maturi tra cui scegliere, ma comunque è un'opzione secondo me da ultimi giorni di mercato adesso parliamo del pastrocchio sponsor ragazzi, perché a proposito di sponsor, Lecce Sportiva è uno sponsor tecnico Nike è uno sponsor tecnico e poi c'è il cosiddetto main sponsor che è Digital Beats io una soluzione ce l'avrei nel pastrocchio e non so se sarà quella che verrà adottata pastrocchio molto semplice, come ho detto a modi battuta tra cattivi pagatori o pagatori lenti tra Suning e Digital Beats evidentemente si sono trovati, perché Digital Beats non ha pagato la prima rata e l'Inter ovviamente ha preso i suoi provvedimenti, stanno parlando gli avvocati i primi provvedimenti sono quelli di aver fatto sparire il banner di Digital Beats in pratica dal sito dell'Inter e di aver fatto sparire la scritta dalle maglie di Inter Woman con il Villareal a Pescara i giocatori, squadra maschile avrà Digital Beats sulle maglie? penso di sì, penso di sì, penso che l'Inter non voglia togliere lo sponsor ma sta cercando un nuovo sponsor e la soluzione, visto che c'era un contratto da 85 milioni in 4 anni ma è saltata la prima rata dopo che l'Inter ha avuto Socios.com, l'anno scorso e quest'anno avrebbe dovuto esordire Digital Beats e siamo partiti veramente male allora la mia soluzione è quella a questo punto di cercare di avere i soldi e di concentrare quello che l'Inter deve prendere, ovviamente non 85, visto che questi fanno fatica a pagare la prima tranche che non so se fosse di 20 o qualcosa del genere, insomma di concentrare in quest'anno traduco, tenere lo sponsor Digital Beats quest'anno e poi naturalmente cercare il nuovo sponsor dall'anno prossimo se ovviamente non arriveranno nemmeno questi soldi l'Inter lo sponsor lo dovrà trovare subito e dovrà avvalersi naturalmente dei suoi avvocati poi perché indubbiamente c'è una risoluzione del contratto d'ufficio per inadempienza la storia dello sponsor è molto semplice da quando si è rinunciato a Pirelli, Pirelli l'ultimo anno abbiamo vinto lo Scudetto collaborazione interrotta nel 2021 dopo aver vinto lo Scudetto Pirelli dava 12 milioni diciamo che con i bonus per lo Scudetto siamo arrivati a 14 poi è arrivato a Socios.com che ne garantiva 16 e poi è arrivato Digital Beats è stato un anno, Socios.com la stagione appena conclusa è poi arrivato Digital Beats che a parole ha firmato un contratto di 4 anni per 85 milioni diciamo che poi le maglie stanno diventando un po' come le tute di Formula 1 se ci avete fatto caso perché adesso c'è il cosiddetto back sponsor che già si usava con Pirelli, vi ricordate Driver? poi c'è stato Lenovo e adesso si commercializza anche la cosiddetta sleeve la cosiddetta manica lo sponsor di manica dove sono altri milioncini e quindi rischiamo tra un po' di avere tutta una serie di patch ma voi sapete bene che se arrivano i soldi questo è inevitabile non so se le maglie siano più belle con tante scritte pubblicitarie diverse ma insomma stiamo andando da questo punto di vista verso la Formula 1 però qual è il problema? che dal 2022 l'Inter mi sono segnato un po' di appunti ha rinegoziato con le varie aziende legate a Zitara che era quella che aveva portato Socios.com e ha promosso Digital Beats main sponsor ripeto per 85 milioni complessivi di Euro fino al giugno 2025 e poi ulteriori sponsor quindi il back sponsor quindi lo sleeve sponsor lo sponsor di manica non avendo pagato Digital Beats una rata è chiaro che a questo punto l'idea è quella di rompere il contratto alla rottura però immediata del contratto si oppone Nike Nike che tra l'altro ha appena firmato un rinnovo come sponsor tecnico per 24 milioni l'anno fino al 2030 il problema qual è? perché Nike si oppone? perché già sono state prodotte tantissime maglie Nike con la scritta Digital Beats che andrebbero ovviamente nella spazzatura quindi Nike starebbe premendo per la soluzione che tutto sommato viene anche a me cerchiamo di avere i soldi di quest'anno di Digital Beats minacciando cause ovviamente perché è inevitabile e intanto mettiamoci alla ricerca di un nuovo sponsor per il prossimo triennio perché mi pare ovvio che Digital Beats ben che vada resterà sponsor solo per quest'anno ora sapete è facile dire bisognava tenere Pirelli però Pirelli non ha mai dato molti soldi in un'azienda storica con Marco Tronchetti Provera l'amicizia con Morati insomma 26 anni una partnership forse la più lunga tra una squadra di calcio e uno sponsor ed è chiaro che si è andati a cercare ingolositi ovviamente di denaro nuovi sponsor e si è andati nel mondo delle criptovalute e sapete che io sono diffidente sulle criptovalute questo è anche un bel colpo all'immagine di chi si fida delle criptovalute perché adesso magari qualcuno ci penserà due volte prima di affidarsi ovviamente a questo genere non solo di sponsor ma anche di investimenti sto parlando proprio di voi del privato l'unico modo per uscirne ripeto per non urtare Nike tenere quest'anno Digital Beats cercare di avere almeno i soldi dell'annualità ovviamente e poi mettersi subito alla ricerca di un nuovo main sponsor sulla maglia che non può più essere Pirelli perché ovviamente Pirelli garantisce meno denaro non avendo poi questo gran bisogno Pirelli è nota in tutto il mondo non ha poi bisogno ripeto di dare chissà quali soldi bisognerebbe tornare a cercare aziende tradizionali diffidando di tutte le nuove idee questo è indubbiamente al di là degli acquisti dei soldi che non arrivano un grande autogol è inutile negarlo e adesso ragazzi con tanti problemi che ci sono pensiamo al calcio giocato a me sulla maglia sapete che cosa interessa non che ci sia scritto pastificio Moscatelli o quello che volete voi a me interessa che sulla maglia a giugno del 2023 ci sia lo scudetto con la seconda stella questo mi interessa però è ovvio che il problema va risolto e anche abbastanza in fretta un saluto pronti dunque a pescare per l'ultima amichevole stagionale con il Villareal e ci sentiamo presto ragazzi per il Villareal Oh, 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 oh Pite